Questo servizio è offerto dalla Voce del Popolo, il settimanale della Diocesi di Brescia. Festa grande a Rovato. La comunità ha vissuto, in occasione del Patrono San Carlo, l'ordinazione sacerdotale e la prima messa di Don Maurizio Zaninelli, giovane rovatese in missione nel Mato Grosso. Erano un migliaio, sabato 3 novembre, nella parrocchia Santa Maria Assunta di Rovato, ad assistere all'ordinazione sacerdotale di Don Maurizio Zaninelli, 31enne rovatese. La sua vocazione, sbocciata e maturata nel gruppo dell'Operazione Mato Grosso, lo porterà nella Diocesi di Wari, in Perù, 500 chilometri a nord di Lima. A Wari, Don Maurizio opera da lungo tempo come volontario. E proprio il vescovo di Wari, Ivo Baldi Gaburri, ha presieduto il rito dell'ordinazione sacerdotale assieme al prevosto di Rovato, Monsignor Gian Mario Chiari. Maurizio è cresciuto in una casa di volontari e di missione e fin dai suoi primi anni ha capito l'esempio di vita. Il ritorno a Rovato, il lavoro come carpentiere e poi nel 2007 la chiamata e l'entrata in seminario. Oggi per me è un giorno importante e posso solo ringraziare il Signore. Molti mi dicono che sia arrivato un traguardo, invece per me è un nuovo inizio e ogni giorno sarà ringraziare il Signore e cercare di fare qualcosa che sia gradito a Lui. Domenica 4 novembre, festa patronale a Rovato, Don Maurizio ha celebrato la sua prima messa davanti a tanti amici e parenti. Auguro a Don Maurizio, ha detto il parroco di Rovato, Monsignor Gian Mario Chiari, di mantenersi entusiasta nella fedeltà, sempre generoso nel servizio e trasparente nell'esempio di vita. Mentre viviamo riconoscenti a Dio questo evento di grazia, non stanchiamoci di pregare lo Spirito Santo per i nostri giovani, affinché siano capaci di fare scelte coraggiose nella vita. Grazie a tutti.